Francesco Centipizzutilli, presidente di Lights On, questo è il quinto anno di Apergiva in Musica, quali sono le sensazioni? Buonasera, sono Francesco Centipizzutilli, presidente della situazione Lights On, sensazioni bellissime, abbiamo un scontro positivo in tutta la città, siamo giunti ormai al quinto anno dell'organizzazione dell'evento Apergiva in Musica, ci siamo dovuti spostare da Porta Branconia perché stanno facendo i lavori di strutturazione e parcheggio lì e non potevamo lasciare l'Aquila senza questo evento. Allora abbiamo deciso, dopo un po' di tempo, di dire dove 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 e abbiamo scelto questo posto che è bellissimo, qui a Castello, come potete vedere, di fronte all'Avvitorium. E niente, siamo qui dal 22 al 27 agosto e abbiamo fatto tutti gli incontri con gli autori per la produzione dei libri, i ameritivi, il cittadino di accompagnamento per far scoprire un angolo nuovo alla città. Tra l'altro sembra un bosco incantato. Sì, incantatissimo, avevo queste luci che scendono dall'altro verso il tasto. Grazie mille!